che i sacrifici che voi portate avanti, i sacrifici che vi caricate, le responsabilità che vi caricate, le difficoltà che vi caricate, non hanno un compenso adeguato. Sono scelte che si fanno semplicemente quando si ritiene che ci sia qualcosa che è più importante di quello che è importante per noi stessi. Sono scelte che si fanno perché ce lo chiede la nostra coscienza. La riflessione che avevo fatto e che voglio condividere con voi è che a me ha sempre fatto sorridere che si definisse incoscienza quando qualcuno fa una scelta senza prendere in adeguata considerazione le conseguenze che può avere per se stesso. Io penso che invece sia incoscienza vivere una vita rincorrendo cose che non hanno un valore reale e fondamentalmente non hanno un senso.